Nel canale di Suez la situazione sta tornando progressivamente alla normalità. Il blocco di questo importantissimo corridoio commerciale tra Asia ed Europa però ha reso evidenti due cose. La prima ovviamente, se ce n'è bisogno, è di quanto questo stretto canale d'acqua sia importante per lo scambio internazionale delle merci dal momento in cui si sono bloccate in una settimana 400 navi. Dall'altro lato ha però permesso di rendere evidenti anche delle problematiche sull'innalzamento dei costi che si erano palesate anche prima di questo incidente che ha coinvolto la porta-container Ever Given. Per avere un'idea basta pensare che il 15 marzo del 2020 il Dry Baltic Index, il principale indicatore di Bloomberg per i noli marittimi, faceva segnare il prezzo di 407 dollari. Il 19 marzo di quest'anno siamo arrivati a 2.281 dollari, quindi uno scalino importante. La riflessione però da fare è che il primo salto di questo grosso aumento si era già avuto tra marzo e luglio dell'anno scorso, quando dai 400 euro che citavo prima, siamo passati a 1.800 dollari, quindi ben lontani dall'incidente dell'Ever Given. Secondo gli operatori questo è dovuto soprattutto alla mancanza di container per la spedizione delle merci, probabilmente a causa della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. e di fatto la mancanza di imballi per le spedizioni, per la legge della domanda offerta, ha fatto quindi schizzare il prezzo alle stelle. La cosa peggiore però per gli operatori è che nessuno al momento vuole quotare e prendere in carico le spedizioni, per cui tutto risulta bloccato per l'incertezza di fondo. e anche prima dell'incidente di Suez ci volevano almeno tre mesi per avere forse la possibilità di spedire, il che sta mandando progressivamente in crisi o in rallentamento tutto il commercio mondiale, perché le catene delle forniture stanno rallentando e tutto diventa molto più complicato, probabilmente, ma anche questo darà via a ulteriori operazioni di reshoring. clienti e spedizionieri però alla fine sono certi di una cosa, anche questa crisi che abbiamo vissuto con Suez porterà a ulteriori incrementi di prezzo, dovuti soprattutto al petrolio, come abbiamo già visto, e anche alle assicurazioni dei navali. E c'è da scommetterci che anche l'acciaio trasportato su queste vie non resterà esente da incarico. clienti e spedizionieri